Mi servirebbe una descrizione fisica dettagliata di queste presenze. Sì, certo, e chi se ne scorda. Allora, il primo che ho visto è il ballerino di salsa. È brutto. Sì, sì, Giorgetti, è brutto, è brutto. Lo perdoni, novelli, ma è ancora un po' ascioccato. È robusto, è biondo e ha un volto pallidissimo. E si potrebbe definire un fenotipo dell'Europa dell'Est. E poi c'è la figura femminile. Ha una camicia bianca ed è... È brutta, è tanto brutta. Alta, alta, Roelma. Alta. E poi la terza persona è bruttissima. E grazie a cazzo, Giorgetti, sono dei fantasmi, gli sei mannamorato di un fantasma. Maleretto! E la terza presenza è il chitarrista satanico. Giacca, camicia, cravatta e calzoncini corti. Ha una chitarra elettrica modello Stratocaster. Ah, pensavo ad una diavoletta SG. Ok, Mr. Unione, è sicuro di avermi detto tutto? Certo, Rovelli, non c'è altro. Giorgetti, vuole aggiungere qualcosa? Sì, che sono... Che sono? Che sono? Che sono? Molto brutte. Giorgetti, maledetto! Mi rotevano venire in culo! Avviva il nero! Salve! Rovelli, mi dispiace per prima, però si sa come è personale in Italia. Io sono abituato all'efficienza della razza nordica, biondissime e vincente. Non si preoccupi, ingegnere. Capisco bene il suo nervosismo, ma mi metterò subito al lavoro per risolvere questo problema. Le chiedo solo un mese di tempo. Grazie a tutti.